Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di ChrisMagic22 E allora ragazzi, oggi siamo qui in un nuovissimo video con... Silvestro! Allora ragazzi, oggi giochiamo a un hobby... come si chiama questo hobby? Scappa dalla giungla! Scappa dalla giungla, Silvestro me l'ha consigliato Quindi, oggi Silvestro, tu cosa vorresti per... Cioè, cosa vorresti... Il nuovo iPad, il nuovo iPad Pro Aia, è una mazzata E va bene, allora, adesso lo vado a comprare e te lo vado a configurare Ecco qua ragazzi, adesso, io l'ho appena comprato e si trova dietro alla fotocamera Perché ovviamente è stato configurato con tutti i dati di Silvestro che ovviamente non andrò a girare Perché se no succederà un bel casino, quindi meglio che non vi faccio vedere nulla Però io vi dico che l'iPad lo ha acquistato Allora, quindi... Ehm... Ok, ok L'iPad si trova dietro qui Che ovviamente non girerò la fotocamera, perché se no voi andrete ad acquisire tutti i dati Allora, Silvestro, ci siamo? Ok, allora 3, 2, 1, via Allora, io non... dove si parte? Dove si va? Qua? Qua, penso Ok Vieni Ecco qua Saltiamo Salta, salta Sì, però, salta Dai, ce la puoi fare qua? Ah, ok L'hobby di prima, quanto ti è piaciuto? Zero Vabbè ragazzi Prima ho fatto un hobby Che ovviamente non pubblico del video Oltre perché mi ha disconnesso E anche perché mi ha Tolto il cervello Come devo dire Mi ha tolto completamente il cervello Oh, ma qua Qua fanno i rumori, cecco, poi In tuo sbaglio No Alza un po' il volume Alza il volume al massimo Ok Alza il volume L'ho alzato, l'ho alzato Dai Non mi far morire Perché questi sono salti davvero Oh, mamma mia Oh, mamma mia Perché mi fai morire Ma perché Oh, mi fai morire Che Oh, però Ok 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 Ecco, ora lo fa il rumore No No, perché No, perché quello di prima Non lo faceva Quindi io non capivo Se l'avevo preso Al qualche point O no Eh, anche io Vabbè raga Come vi ho già detto Quello là Quel video Di un escape Che abbiamo fatto Prima Ovviamente Non uscirà Come vi ho detto Perché Mi ha laggato un sacco E poi Non sono arrivato Alla fine Perché Mi ha Tolto Ma se proviamo Ad andare Sul filo No Eh, morì Lo stesso Vabbè Silvestro Dimmi Come Come si fa Perché Ti giuro Che mi fa Cadere Oddio Mi ha fatto Mamma mia Mamma mia Raga Mamma mia Allora Se ci blocchiamo Qui Non va bene Perché Mi fai morire Perché Mi fai cadere Quando io Giampo Tu mi vedi Che io Giampo Silvestro Mi sa che Meet Ha superato Un'ora di chiamata E mo Vabbè raga A fra poco Ragazzi Rieccoci qua Ma perché Non rispondevi Prima Mi hai fatto Uscire Pensavo Che la chiamata Di Meet Sera chiusa No Perché Perché ti chiamavo E non mi No Da qua Devi saltare Vai qua Aspetta Fino a qua Non te lo dico io Aspetta Fino a qua No Fino a qua Fino a qua Te lo consiglio Di farlo Vabbè lo faccio Vai vai qua Oh Cavolo Che culo Hai preso il check point Sì mamma mia Sono caduto sulla pianta E non mi ha fatto morire Sicuro che l'hai preso? Sì mi ha fatto il rumore Fai sbaglio C'è anche una scritta Dove? C'è una scritta Tipo check point Da cosa è C'è una scritta Eh sì Eh ma uno Come deve fare? Oddio Oddio Come lo Come L'ho schivati No Aspetta E che è difficile Ma quanto tempo ci vuole? Boh Adesso 10 minuti Ti ho detto che l'hai fatto milioni di volte Eh quindi Eh lo sai quando finisce no? Eh fra 15 minuti massimo Perché mi fai cadere Mi fai murire Ma non c'è la Ok Primo fatto Secondo fatto Terzo fatto Quarto fatto No Mamma mia Mamma mia Perché non mi jumpi? È semplicissimo Ma perché non mi jumpi? Questo è il problema Questo è il problema Perché? Perché? Eheh perché? Salta Jumpino Jumpino Jump Jumpino Minchia Di ne sono Ce la farò mai Salta Salta No Lo so Lo so Lo so Ma mica c'è qualche trick Che ne possa evitare uno Non penso Che non fosse il problema Per il salto Io L'avrei già finito Ma Premi più volte Smash Smash Like Better Smash Devi premere fortissimo Stasso per risaltare Mille volte Più 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 forte Che puoi Oh Cristavini Fallo qua e qua Prendi check point Ma è sempre lo stesso Però Che senso È sempre sto tronco Oddio Ma che sto Cioè mi ha fatto camminare Che successo E poi mi ha fatto morire Non mi dico io Ma che tecnologia di merda Ok però Però il centro mi ha fatto andare Minimo due o tre Me le ha proprio tolti Nel conto Mannaggia Silvestro Che mi ha saltato in testa E io Che ho fatto Mi ha saltato in testa E mi ha mosso di qualche Millimetro Il personaggio Mamma mia Perché mi cammini Perché mi cammini Mamma mia Mannaggia 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 Cioè Gli escape Sono fatti Per Calmarsi Rilassarsi Per almeno Fare un Qui Per fare un labirinto Invece Invece di essere così Sono tutto il contrario Ti fanno perdere La pazienza Perché devo andare Devi saperli fare Oh Chris vai Vieni Dove? Sì Perché ti blocchi Seguami Che l'ho fatto già Due volte L'officio Tipo Due anni fa Due anni Due anni Tre anni fa Qui Però Però Non lo ricordo Ma no Che figa Sto cosero Rosa Tu vedi Tipo il riflesso Se ci fai sopra Non penso Non farlo Fallo tu Ma non lo voglio fare Muori? Sono morto Penso di sicchia E se no Che lo mettevano a fare No Perché certi volti Sono buggate le cose Come se era buggato Quel coso verde Aspetta Chris Aspetta No Per una strontata Per una strontata Ah Ecco come prendere in giro Roblox Ecco come fregare Roblox A me mi vedi che cammino? Sì E' tipo immobile Ecco Aspetta fammi salire su di te Ok cammina Arriva alla fine Ok ancora Vai Ok Primo fatto Aspetta No non mi ha giampato sto stronzo Non mi ha giampato sto stronzo Non mi ha giampato sto stronzo Ok bravo Ma che Vieni Dai Ma perché Perché Cioè è bello Che io clicco il jump E non me lo fa cliccare Mi fa cliccare sopra Ok mettiti Mettiti alla fine Ok Ok vai Un attimo Ecco qua Vai qua Vai qua Fermo 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 Mamma mia Mamma mia Ragazzi a mille like spacco sto telefono ve lo giuro Lo spacco Dai Dai Chris ce la stai facendo Vai salta mille volte Proprio smack Smeggi Smack Premi fortissimamente Tasso del salto Capito? Eh ma poi me lo spacco Mamma mia Dove? Qua Qua Quanto è finito? Un'altra volta Bu No però questo è È più difficile No Però questo Devi stare attento È difficile Ai 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 Si vede? No Perché mi fai cadere? Oh madonna mia Qua ce ne voglio Perché? Perché? Posso capire? Io Io Vedi che Satti più Satti più piccoli Piccoli Fatti Devi fare Mini jump Eh non me li fa fare Mini jump Deve 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 I mini jump Non me li fa fare Vedi Deve fare Vai Guarda Devi Guarda Quando falti Devi fermarti Dalla lavetta Quando vedi Che secondo te È già Mamma mia Mi si è salvata All'orlo Vedete come si blocca Mini jump Mini jump Devi vedere Devi togliere La lavetta Per camminare Mamma mia Devi premere Più volte Più volte Guarda È un mostro Ma io salto Io salto Io salto E premilo Più volte Ok Salta 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 Quanti ne sono ancora Salta 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 Vai Vianti Prima Tu Salta 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 Vai 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 Ok Vai 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 Prima Tu Vai Vai Cristiano Che cosa Sta succedendo In te Ma Ma Ti Stai In set Perché Ecco qua La prima Cado Io lo Sì Che devo Fare Devo Prendere Un po' Di Un chiodo Lo inficco Sullo schermo E questo chiodo Lo inficco Sulla parte Che deve Saltare Così salto Ogni volta Che dico Io Salta Vai Cristiano Dove sei? Sono alla fine Ne ce l'ho fatta Tu dove sei? Aspè che me l'ho bloccato Ok Qua Vai Ci sono delle palle Mamma mia Mamma mia Mamma mia E dai E dai E dai E dai No Non ha già colpito Quel Dito Sì Sì Appena la palla vedi che stai sopra tu vai Senza saltare ce la puoi fare No? Vai Mamma mia E ste palle infuocate Ovunque sarai Ovunque sarò Io ben schemmierò Dai finisce la puoi fare Mamma mia Ovunque sarai Ovunque sarò Io ben schemmierò Io ben schemmierò Gesù basta Allora mi vuoi insegnare come si è ballato? Grazie No No muori lo stesso Semplicemente salta Quando quella sta giù salta Sit Quando la palla Ma perché? Cioè io sono andato nello spazio vuoto E tu mi colpisci Mentre sono nello spazio vuoto Mamma mia Ma si è buggato? No Sono morto Si era buggato per un Si era buggato per un attimo Tutte le palle stavano sopra e non scendevano Da quanti minori siamo con questo livello? Silvi? Si? Da quanto tempo stiamo con questo livello? Dai Cri Fai Falta Falta Devi Quando devi andare Te la puoi fare Vai Ottima idea Se non vuoi All'ultima tiro Una bestemmia Ok Ok Vai Cri Questo Se non fai il salto Sei morto Aspetta No Vai Solo la mia testa Non voglio che mori Tio Vai qua Apri Mi check Oh Tio Ok Mamma mia Ma dovrei Dovrei fare tutto da capo Ma cadosi Se tu ti muovi Mentre io sto Sulla tua testa No Eh no Non lo facciamo Ora Dai Cri Cri Puoi fare No Non cadere Oddio Non cadere Cri Sì 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 In questo livello Io sono morto Oddio Ho fatto due livelli Senza morire Incredibile Ho fatto un record Veramente Veramente Cri Hai fatto un record Mondiale Né Perché Oh mamma mia Ok Vai Ma che Oddio 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 Mi sono fatto male in piede Oddio Fin Fin Salta Dove sei senza morire Ok dove sei Devi saltare Salta Eh Sono saltato Devi venire qua sopra C'è la freccia La vedi È finito Salta Vieni qua Ma perché mi fa camminare così a me Perché a me mi fa camminare così A me mi fa camminare liscio Senza che mi muoio Senza che mi muovo Eh Eh anche a me È un po' baccata È un bardo Penso No a te ti muove le gambe A me no No a me no Cioè tu vedi che io le muovo Ma io no Ah eccomela Ah eccomela No Madonna mia Sì 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 Ma che stiamo facendo Stiamo rompendo il gioco Zitto non fa nulla Fermo No Sono morto Dai Chris La possiamo fare Basta 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 Gesù Dai ce la devi fare Devi in modo di fare Incazzato Nero Ai 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 Grazie a tutti